Terza vittoria consecutiva e secondo ostacolo impervio superato. La Magnolia vince anche contro il Faenza in una partita tutta a cuore. Decisiva l'argentina Carolina Sanchez che con le sue due triple nel quarto periodo ribalta l'inerzia della gara a favore delle Rosso-Blu che alimentano l'entusiasmo del numeroso e rumoroso pubblico del Palavazzieri. Dopo un piccolo equilibrio iniziale le Magnolie prendono a spingere sull'acceleratore e conquistano due possessi di margine nel primo quarto ma a lunghezze nel secondo periodo. Alcuni problemi fisici Porcu, Marangoni e Di Gregorio non erano al meglio fanno riavvicinare le Romagnole nel terzo periodo e portano a passo. Poi l'epilogo con Carolina Sanchez che diventa protagonista. 15 punti migliore realizzatrice della serata bene anche la Mancinelli con 12, Cingoni con 10 nei momenti in cui la palla scotta l'esperienza di Sanchez. È senz'altro importante, ha affermato a fine partita Coac Mimmo Saban. Un ottimo viatico, ci godiamo ora questo successo e da lunedì inizieremo a pensare alla Virtus Cagliari, prossima avversaria della Magnolia che anche quest'anno è un messaggio forte a tutto il campionato.